Ciao, io sono Norman, uno dei due titolari di Mi Valà, una nuova piedineria artigianale nata da poco in zona Bicocca, zona universitaria. Ciao, sono Alessandro, sono il secondo proprietario di Mi Valà, questo chiosco che abbiamo aperto in società con Norman. Io sono in questo settore da circa trentina d'anni. Questa è un'attività improprio, ti dà assolutamente quel valore aggiunto in quanto hai il potere decisionale e se dimostri di essere il migliore, alla fine il tutto vi verrà ripagato sicuramente. Ma le sfide sono molte, la principale è quella di raggiungere l'obiettivo che ti crei prima di aprirla pure. Il sistema di cassa Samap è sicuramente un sistema intuitivo, intelligente e innovativo e ha portato alla nostra attività a uno snellimento nel lavoro. Su una scala da 1 a 10 Samap si merita sicuramente un 9 in quanto cercavamo un sistema cassa innovativo e con Samap sicuramente l'abbiamo trovato. La nostra funzione preferita è sicuramente la gestione dei tavoli che grazie a Samap riusciamo a sistemare sempre nel migliore dei quali. Samap Cassa Pro ha migliorato la nostra attività in quanto avendo tanti prodotti riusciamo a gestirli più facilmente. Samap Cassa Pro grazie ai suoi report ha migliorato notevolmente la gestione della nostra attività. Piadina, il perché? Perché la piadina è tutta la vita romagna. Juventus tutta la vita, faccio farvi vedere una cosa. Aperitivo perché sei tranquillo e bevi due cocktail in più.